Salve, sono Luca Gammaitoni, sono il direttore del Noise and Physical Systems Laboratory presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Perugia. Mi occupo di didattica e anche di ricerca. Oggi vorrei invitare giovani ricercatori, dottorandi, studenti, insegnanti a partecipare a FameLab Italy. È un'esperienza interessantissima in cui avrete la possibilità in soli tre minuti di raccontare un'idea scientifica che vi appassiona. È un ottimo esercizio per comunicare la scienza, è un'attività strategica di grande importanza per la ricerca. Partecipate e se siete bravi supererete le selezioni italiane e andrete alla finale nazionale e poi a quella internazionale che si terrà in Inghilterra. Partecipate con grande entusiasmo.